con l'azienda Giovanni De Maio. Che cos'è? Che cos'è tutto questo? Allora, prego. Qua ci abbiamo un pecorino con tartufo o un pecorino con le noci. Facciamolo vedere. Sando dalla nostra azienda. E poi abbiamo ancora molti prodotti qua, sempre che produciamo noi. E questo? Questa è una salsiccia che la produciamo noi. La salsiccia che avete assaggiato è una salsiccia dolce. Poi ci sta, se è piccante, con il tartufo dentro. Facciamo, ma abbiamo più di una varietà. Una varietà. Allora, invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo anche sui social a venire alla mostra internazionale, la mostra nazionale del tartufo di Colliano. Perché venire? E perché è famoso, poi abbiamo una bella produzione di qualità. È famoso il tartufo di Colliano. Perfetto. Allora, io continuo a mangiare. Grazie Giovanni, ora me lo posso portare? Quindi. Io me ne vado, me ne vado.